l'8059 germania federale collezione di francobolli nuovi questo volume va dal 52 al 75 sono 1031 euro di catalogo unificato vado veloce tanto per farvi vedere che i francobolli ci sono ben tenuta i fogli sono in ottime condizioni qui nella parte iniziale comincia a esserci qualche mancanza più andiamo indietro ovviamente più mancanze ci sono prendiamo il secondo volume qua arriviamo al 1989 con i libretti qui c'è praticamente tutto o quasi sono gli automatici il secondo volume dice che il catalogo unificato fa circa 900 euro se volete altre informazioni scrivete affilateli a chiocciola 4 baiocchi puntocom